E3 2011 chiude i battenti, come ogni anno si è svolto nel Financial District di Los Angeles e ha coinvolto l'intera industria dei videogiochi. Questa edizione dell'evento sarà ricordata per la prima presentazione del controller di Nintendo Wii U, che è in grado di condividere i contenuti del sistema principale e operare autonomamente, e per il reveal di Sony PlayStation Vita, la nuova console portatile con hardware migliorato e touchscreen. È stata un'edizione particolarmente dedicata al mondo console, ne è prova il fatto che non c'è stato praticamente nessuno strategico in tempo reale di spessore, oltre al grande spazio occupato dagli annunci in ambito console. Produttori storicamente legati al mondo PC come Blizzard e Valve, inoltre non hanno partecipato all'evento, unico vero baluardo del mondo PC Resta Battlefield 3, che è difficile definire come un gioco normale dopo il primo endzone della modalità multiplayer. Battlefield 3 era presente alla fiera solo in versioni PC, mentre EA e DICE non mostrano ancora le controparti console. I giochi che ci hanno particolarmente colpito sono Bioshock Infinite, che propone un nuovo tipo di esperienza di gioco basato sulla collaborazione con l'intelligenza artificiale, Tom Braid, esperienza squisitamente cinematografica con immagini reali e cruente, oltre che Hitman Absolution e, a sorpresa, Alliance Colonial Marines. Non poteva mancare lo spazio per i giochi di guida, si va dal general arcade di Driver San Francisco alla simulazione di Forza Motorsport 4, che presenta un modello di guida rifinito, più precisione nei calcoli relativi alla resa delle varie componenti, un roster di vetture più ampio e il supporto a Kinect. Anche F1 2011 fa ben sperare, mentre Need for Speed The Run rivoluziona la serie, introducendo la narrazione di tipo cinematografico tra una corsa e l'altra. Il resoconto completo sui giochi presentati sarà online nei prossimi giorni su GameMag.